Siamo qui a Lorian per provare il High Reap. Nelle acque verdi e fresche di oggi proveremo questa innovazione e vi diremo che va. Come si vede la barca non sta molto fuori dall'acqua. 20 cm circa da una linea di galleggiamento. Ma è una scelta voluta perché tu non ti senta in cima a un trapiccolo traballante. Gli alliscaffi esistono già da qualche anno. Nessuno aveva mai pensato di mettere il foil su un gommone. Sì, sono. Sono nato. Questo è il Sea Air fuori dall'acqua. Si vede bene l'alettone sul motore. Questo è il quadro di controllo, il cockpit. Perché noi le proviamo sopra e sotto le barche. Mica solo in secca. Mica solo in secca. Grazie.